Influencer e personaggio televisivo, cantante e attrice, instancabile, Giulia Penna si appresta a tornare sul piccolo schermo dove, dal 20 settembre 2024, è una delle concorrenti della quattordicesima edizione di Tale e Quale Show. L'occasione ci permette di rileggere la sua vita, dagli inizi al matrimonio con lo storico fidanzato. Chi è Giulia Penna di Tale e Quale Show? Giulia Penna è una cantante e influencer italiana nata a Roma il 5 maggio 1992. La sua passione per la musica si manifesta in giovane età, quando a soli 12 anni inizia a suonare chitarra e pianoforte da autodidatta. Sostenuta dai suoi genitori, parallelamente si dedica allo studio del canto e della danza, specializzandosi sia in quella classica che moderna. Inizialmente si esibisce in piccoli locali di Roma, costruendo gradualmente la sua carriera. Nel 2014 Giulia Penna partecipa al Festival di Castrocaro e tenta le audizioni di Decimo Factor, dove si esibisce con We Found Love di Rihanna. Anche se non riesce a convincere i giudici, la sua determinazione non vacilla. Nel 2015 approda sul web, aprendo un canale YouTube dove comincia a pubblicare parodie di canzoni italiane, guadagnando rapidamente una certa popolarità. La sua carriera non si limita solo alla musica, Giulia diventa anche attrice, apparendo in numerosi spot pubblicitari per marchi come Wind e Poste Italiane e nel 2016 debutta anche al cinema con una piccola parte nel film Commedia Un Natale al Sud, dove recita accanto a personaggi noti come Massimo Boldi e Anna Tatangelo. Nello stesso anno lancia il suo primo singolo, dal titolo Odio l'estate, e inizia a lavorare in televisione come conduttrice del programma House of Gag. Dal 2019 la Penna continua a pubblicare nuovi singoli che ottengono discreto successo, tra cui Sempre Bene, Shake e Zero Favole. Nel 2023, dopo 16 anni di fidanzamento, Giulia Penna si sposa con Yuri, l'uomo con cui condivide la sua vita fin dall'adolescenza. I due si sono fidanzati quando lei aveva solo 16 anni. La cerimonia, intima e romantica, si svolge a Roma nella Basilica di Santa Sabina, seguita da un ricevimento nel suggestivo borgo della Merluzza. Anni fa correvano insistenti voci su un presunto flirt tra Giulia Penna e lo youtuber Favig. In realtà i due non sono mai stati insieme, ma erano soltanto amici. Giulia Penna torna in tv come concorrente della quattordicesima edizione di tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti che rappresenta, per lei, una nuova sfida che la vedrà cimentarsi nell'interpretazione di vari personaggi del panorama musicale. Nel cast dello show troviamo anche Simone Annichiarico, Massimo Bagnato, Thomas Bocchimpani, Faisal Bonciani, Roberto Ciufoli, Carmen Di Pietro, Kelly Joyce, Giustine Matera, Amelia Villano, Verdiana Zangaro. Musica a parte, Giulia Penna è molto attiva sui social, dove condivide con i suoi follower momenti della sua vita privata e professionale, conquistando sempre più consensi e affetto da parte del pubblico. Come si evince dal suo profilo Instagram, Giulia a due cani, volpini di pomerania di nome Viola e Coffi.